Primo tempo primo possesso del Milan, che si butta subito in avanti nel primo minuto. L'intenzione è quella di far sentire grande pressione ai campioni di Germania. La prima occasione della partita. Però, è di boniface. Grande parata di Maignan che devia la palla in calcio d'angolo. Il francese si ripete sull'azione dell'angolo, deviandola nuovamente sul fondo. Dopo aver preso le misure ai rossoneri, il Leverkusen prende in mano il match e inizia a dettare il ritmo, arrivando con facilità nella tre quarti avversaria. I tedeschi, poi, cominciano a portare un pressing molto alto che mette in difficoltà il Milan già dalla fase di costruzione dal basso. Al ventunesimo minuto i rossoneri rischiano. Gol di boniface dopo una spettacolare trama di gioco, ma l'arbitro fischia per un fuorigioco di mezzo passo di Frimponde. Dominio pressoché totale della squadra di Xavi Alonso. Un minuto dopo il rischio corso, il Milan riesce ad affacciarsi alla porta difesa da Radecki con un passante rasoterra velenoso di Leao, liberatosi con agilità di due avversari, che non trova, però. Nessun compagno, alla mezz'ora di gioco scoccata da poco, i rossoneri approfittano di un po' di stanchezza dei tedeschi, riuscendo a proporre maggiormente le proprie idee di gioco. Al quarantunesimo minuto è Abram a sfondare la difesa tedesca, dimostrando come, quando i rossoneri si propongono in avanti, il muro delle Leverkusen è abbattibile. L'inglese si ritrova in area e cerca spazio per il tiro, ma un incrocio fortuito con Tabsoba atterra il numero 90. Secondo tempo la seconda frazione di gioco vede il Leverkusen iniziare con aggressività. Al quarantottesimo minuto è il solito Maignan ad evitare che i tedeschi passino in vantaggio. Respingendo la conclusione dal limite dell'area di Wirz, al cinquantunesimo minuto, però, sono troppe le occasioni avuti dal Bayer che, finalmente, trova il gol con Boniface. Bravissimo Maignan a respingere la prima conclusione a botta sicura di Frimpong, ma non può nulla sul tap in a porta semivuota dell'attaccante nigeriano. Vantaggio meritato dagli uomini di Xavi Alonso, che trovano il vantaggio dopo aver tirato nove volte nello specchio. Al cinquantaseiesimo minuto arriva la prima grande occasione per il Milan. Con Reinders che conclude da pochi passi dalla porta addosso a Radecki. Il gol subito sembra aver dato una scossa alla squadra di Fonseca, che attacca con pericolosità e senza paura. Rischiando in tre occasioni di agguantare il pari. Al settantaseiesimo minuto il Leverkusen sfiora il raddoppio. Frimpong brucia in velocità la difesa rossonera ma sbaglia la conclusione. All'ottantadue minuti il Milan va vicinissimo al pareggio con una doppia occasione. Tio Hernandez lascia partire un missile da fuori area che, però, termina sulla traversa. Il pallone carambola, poi. Sulla testa di Morata, che fallisce l'incornata vincente. Palla fuori per un soffio oltre il palo alla destra di Radecki. All'87 minuti è ancora il Milan ad avere un'occasione. Questa volta con l'Oftus Cic. L'inglese calcia bene e con forza da dentro l'area di rigore, ma il portiere avversario è nel posto giusto al momento giusto e nega la gioia al centrocampista rossonero. L'arbitro fischia la fine dopo quattro minuti di recupero. Un Milan coraggioso e sfortunato rimane ultimo in classifica, mentre il Leverkusen si porta a sei punti.